Padre e figlio di 17 e 43 anni e un amico di 51 anni sono stati denunciati e raggiunti da Daspo emesso dal questore di Padova. I tre avevano tentato di accedere all'incontro di calcio tra il Padova e il Mantua portando un pugnale nascosto nella bandiera. L'arma lunga 23 centimetri e con una lama a doppio filo della lunghezza di 9 si poteva estrarre svitando la base della bandiera. I poliziotti della Digos ieri sera gli hanno notificato il provvedimento di Daspo. I due uomini non potranno fare accesso allo stadio per la durata di 5 anni, il minore per 3. I fatti risalgono all'incontro di lunedì 8 gennaio. Il terzetto è raggiunto da Mantua a bordo di uno dei pullman della tifoseria organizzata. Sono stati raggiunti dal Daspo in quanto il tentativo di introdurre un'arma bianca all'interno dello stadio è stato ritenuto particolarmente pregiudizievole per la sicurezza e l'ordine pubblico. Il pugnale avrebbe potuto produrre conseguenze potenzialmente gravi e lesive nei confronti dell'incolumità delle persone.